Alle elezioni europee 2019 non ci saranno ancora liste trasnazionali, però non mancano i candidati trasnazionali, che hanno scelto di attraversare i confini. Tra questi diversi sono i nomi noti, dall'ex sottosegretario per gli affari europei Sandro Gozzi, in Francia con la Repubblica e Marche, all'ex ministro per l'economia greco Yanis Varoufakis con Diem 25 in Germania. Il suo volto è sicuramente familiare, è l'ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis che sorprendentemente nelle prossime elezioni europee correrà in Germania. Non è solo, anche altri politici europei hanno preferito candidarsi all'estero. Come Sandro Gozzi, ex sottosegretario per gli affari europei, che ha deciso di unirsi al partito del presidente francese Emmanuel Macron, la Repubblica e Marche. Non potremmo mai avere una vera democrazia europea se non abbiamo dei veri movimenti politici trasnazionali europei. Siamo sei cittadini europei con nazionalità diversa da quella francese, candidati in Francia, però per incarnare questo bisogno di costruire una politica oltre le frontiere. Tra i candidati trasnazionali ci sono anche volti nuovi con nomi importanti. È il caso del francese Nicolas Barnier, figlio del negoziatore dell'UE per la Brexit, Michel Barnier. È stato invitato a far parte del partito liberale dal primo ministro Charles Michel, ma la sfida ora è convincere gli elettori belgi, che a malapena lo conoscono. Certamente sono francese, ma possiamo essere patrioti ed europei. Non sono due concetti incompatibili. Dobbiamo tenere a mente che votare per le elezioni europee significa votare un progetto piuttosto che una persona. Per quanto riguarda il mio cognome, io sono io e mio padre e mio padre. Ha i suoi impegni, come io e i miei. Ancora nelle elezioni europee del 2019 non ci saranno liste trasnazionali, ma questa volta ci sono almeno 20 candidati oltre i confini. Tra questi è anche l'ex commissaria UE olandese Nelly Croes nella lista dei liberali fiamminghi e Jurje Leanca, l'ex premier Moldavo, candidato in Romania nel partito dell'ex premier Viktor Pronta. Ma quante sono le probabilità che siederanno nel prossimo Parlamento europeo? I candidati trasnazionali raramente occupano le prime posizioni nelle liste, quindi il numero di persone che riesce a ottenere un seggio al Parlamento europeo è troppo basso per capire quale impatto possono avere, quale valore aggiunto portano ai lavori del Parlamento europeo. L'idea di liste trasnazionali è stata promossa da Sandro Gozzi nel 2016 e ripresa da Macron per redistribuire posti rimasti vacanti dalla Brexit, ma la proposta è stata respinta. Ora il Regno Unito prende comunque parte alle elezioni. Se ne riparlerà forse nel 2024. E ora le altre notizie del giorno. Gli Stati membri devono richiedere ai datori di lavoro di creare un sistema che consenta di misurare la durata dell'orario lavorativo. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale dell'Unione Europea. Si tratta di un caso che ha coinvolto Deutsche Bank in Spagna, dove oltre il 50% delle ore di straordinario non è stato registrato. La registrazione non era obbligatoria secondo la legge spagnola, ma una direttiva europea lo prevede. Solo Neymar è Neymar. Il Tribunale dell'Unione Europea ha confermato che la registrazione nel marchio Neymar da parte di qualcun altro non è valida. I giudici hanno confermato una decisione dell'Ufficio Europeo per la proprietà intellettuale, che si era schierato con il famoso calciatore brasiliano. Un cittadino portoghese aveva registrato il marchio Neymar nel 2013 per abbigliamento e calzature. I paesi dell'Unione Europea hanno il diritto di rifiutare lo status di asilo ai rifugiati se hanno commesso reati gravi nel loro paese di origine. Tuttavia i rifugiati, con un fondato timore di persecuzione, hanno ancora il diritto alla protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra e non devono essere espulsi. Lo ha affermato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sono stati discorsi tre casi in Belgio e nella Repubblica Ceca.